Buongiorno, oggi è domenica 23 aprile, rassegna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio alto attesino, temperature minime e massime in linea con gli ultimi giorni, un'immagine per capire quello che accade questa mattina alle 6 e 30 in Alta Val Venosta, questa è la vallata che ospita anche il centro abitato di Solda, grazie alla collaborazione con gli esperti meteo riusciamo a dare un'occhiata alla variazione termica, l'escursione termica tra minime e massime in linea tutto con la giornata di ieri, valori negativi solo a Vipiteno, meno 1 grado, 0 gradi a Brunico negli altri centri abitati, temperature tutte sopra lo 0, nelle ore più calde 21 gradi a Bolzano, 20 a Merano 15 a Silandro, 17 gradi a Bressanone, 15 a Brunico, 11 gradi a Vipiteno, questa rassegna stampa va in onda grazie alla collaborazione di Matteo Berto con il suo aiuto, diamo un'occhiata allora alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, il Corriere dell'Alto Adige si occupa di Pensplan Invest alla provincia, compaccer dice vogliamo rilevare la maggioranza, la strategia risorse a disposizione del territorio. Il quotidiano Alto Adige, mesi d'attesa per una visita all'ospedale San Maurizio, il tempo medio di 120 giorni, il lutto che ha colpito il mondo del ciclismo, sappiamo in un terribile incidente stradale è morto Michele Scarponi, la sua ultima vittoria al Tour of the Alps nella tappa di Innsbruck, la domenica dell'Alto Adige i dialoghi senza storia, senza sosta di Riccardo Cuordi, filosofo, mazzeo, eclettico intellettuale che da 30 anni vive all'ombra delle Dolomiti, affronta il nodo dei rapporti tra l'Occidente e l'Islam. Come ogni domenica la cronaca lingua tedesca è delegata al settimanale Z, al posto del quotidiano Dolomiten, la convivenza non sempre semplice tra esseri umani e animali selvatici, in particolar modo il ruolo delle volpi, quali sono i rischi, tutto quello che c'è da sapere a pagina 2 e 3 e poi la terribile esperienza di una donna altoatesina che nell'arco di due mesi ha dovuto affrontare il lutto per la morte di due figli. Andiamo a livello nazionale, il Corriere della Sera, la gara a 4 nel voto blindato della Francia, li 007 avvertono i seggi sono vulnerabili. La tragedia del ciclismo con la morte di Scarponi, l'ultima corsa di un campione. Come ogni domenica la cronaca che arriva anche dalla Germania con la Bild am Sonntag, la cronaca politica in apertura, la cronaca politica con uno dei principali partiti, quello che accade all'interno, ma anche come ci si può curare vivendo alcune ore al giorno nei boschi. Il sole 24 ore sulle clausole dell'IVA, sconto da 5 miliardi, Padoan dopo Fitch dice il debito è stabilizzato, pesa il rischio politico. Gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano, il 28 di aprile apertura del Braugarten Giardino Forza Foresta, il 29 di aprile la Ötzi Alpin Marathon Naturno Valsenales, il 30 di aprile la mezza maratona Merano Lagundo. È tutto, come sempre io vi ringrazio per aver scelto anche oggi in informazione di video 33.